Le fregne con una foto al lato biotengono milioni di visualizzazioni sui social, invece tu con la tua partita IVA o azienda ti metti like da solo e ti fai intortare dai fuffaguru? Leggi il libro. Il massimo esperto di marketing impara le basi del marketing invece di buttare 10 euro alle macchinette o nelle cripto. Compralo subito su Amazon.